Sacrifici, ancora sacrifici derivanti dalla dichiarazione di zona rosso della città e della provincia di Palermo, una dichiarazione resa necessaria dalla situazione ospedaliera e dal diffondersi dei contagi. Dobbiamo poter tornare ad una vita normale, per questo è necessario che rispettiamo questi divieti per poter consentire, così come è accaduto in altre parti d'Italia, di vedere scendere l'RT, di vedere riaprire le attività. Deve essere possibile tornare ad una vita normale, ma al tempo stesso ho chiesto con molta forza al Governo nazionale interventi di sostegno, di rimborso, di ristori alle famiglie, attività economiche, perché occorre coniugare insieme il diritto alla vita, ma anche il diritto allo sviluppo economico della nostra città e della nostra provincia. Rispettiamo queste norme, viviamo questo tempo di sacrifici, tornerà un tempo di grande normalità anche per la nostra città, anche per la nostra provincia.